Insomma, avete sentito cosa dice un esperto, a parte la disponibilità che potrebbe essere quello dell'areoline siciliane, ma io ormai credo che si possa anche mettere un po' da parte su questa storia e per ora ammaricarsi perché non è stato neanche pensato al cargo. Ora, la signora parla ancora di cargo, ma non è stato fatto un passo, il milione, mi chiedo io, il milione che Nello Di Pasquale riuscì a far dare, come è stato speso? Mi pare che furono dati 100 mila Euro a un progetto e gli altri soldi sono stati spesi o no? La continuità territoriale che il buon Di Bernardo dice siamo andati più volte a Palermo a chiedere se possiamo rifarlo? No, ma che fine ha fatto? Ora è chiaro che dobbiamo aspettare anche la regione che decida. Intanto purtroppo alla regione ci sono chiare di luna, mica indifferenti, perché ieri l'assemblea è durata 5 minuti, oggi è durata 3 minuti e mezzo, oggi si deve parlare di questo documento programmatico, di questa finanziaria per il futuro, ma forse sono così tante le problematiche e le proteste che è chiaro che non riescono ad andare avanti. Quindi questa non è una bella realtà per la regione siciliana. Intanto abbiamo una notizia che, torniamo a Ragusa, perché poi ci voleva sempre la regione siciliana per la sanità, allora la notizia è che abbiamo qualche passo reale e concreto sulla questione della pediatria e ci scrive Sergio Firlingeli, dice qualcosa si muove, voi ricordate che abbiamo già parlato con il dottore Comisi, con il responsabile della pediatria di Vittoria che però ci ha detto che si stava facendo qualche cosa. Dice sono stati regolati due dirigenti medici e in più sono stati pubblicati due bandi, uno per incarichi a tempo determinato e l'altro per assunzione a tempo indeterminato, per rinfoltire l'organico. Insomma sembra esserci la buona volontà, però come abbiamo detto ieri e lo ribadiamo anche oggi, certamente la questione della pediatria è una questione importante, la dobbiamo certamente mettere in primo piano, però non ci dimentichiamo tutte le altre problematiche, cioè quelle per esempio della questione della guardia medica, del pronto soccorso, perché sono più importanti, più importanti e nessuno se ne preoccupa, voglio vedere quando il responsabile, il commissario deciderà di incontrare i medici per parlare del pronto soccorso. Bene, andiamo a chiudere il telegiornale, vi lascio ora con una rubrica che riguarda l'economia e poi Gianni Papa che ci parla della missione in Tunisia del dottore Giovanni di Stefano, perché diciamo che è un nostro concittadino che va a fare delle cose particolarmente importanti, degli scavi archeologici al di là del Mediterraneo, mi pare una cosa molto molto importante e noi gli diamo lo spazio che si merita. Per quanto riguarda invece questa breve rubrica di economia, c'è un'altra cosa che bisogna dire che bisognerà, noi possiamo parlare di eolico, ma purtroppo i mezzi camminano col petrolio, con la benzina, queste cose non possiamo dimenticarle, quindi dovremmo abituarci ancora per un bel po' di tempo e non sarà facile fare un passaggio all'elettrico, all'ipido, perché non c'è l'organizzazione. Parleremo di quante macchine girano con l'elettricità e quanti problemi ci sono. Vi lascio Economia e Gianni Papa. Ciao, ci vediamo con le prossime edizioni.